Grandi amici, buongiorno! A grande richiesta oggi parlo di Sigma, leader mondiale nell'edilizia e nelle pitture per la casa, ma anche nel settore anticorrosivo. Oltre alle rinomatissime pitture, volevo farvi presente e ricordarvi che ci sono tantissimi colori in cui possiamo andare a tingere gli eccezionali smalti Sigma, smalti che vanno sulla tecnologia 3G, smalti veramente fantastici, ad esempio per il legno c'è lo smalto con la cementite già incorporata, mano unica, smalti all'acqua satinati e lucidi, sia assolvente che a base di acqua davvero performanti. È una ditta sulla quale ci potete scommettere perché in casa vostra o nei vostri cantieri può darvi un risultato davvero eccellente. Venite a farci visita qui a quello orificio Fumagalli di Valdo dove troverete tutto e come potete vedere ogni giorno continua a arrivare il nuovo materiale. Ciao ragazzi!